Buonasera, buongiorno ragazzi, bentornati oggi, nuovo video un po' diverso, tra virgolette, come vi avevo anticipato, abbiamo pensato di fare un video, vediamo come va, se va male non lo facciamo più, non è un problema, tanto non è che mi cambia la vita, però potrebbe essere interessante perché andrò a parlare della mia squadra perfetta, tra virgolette, pretoti, che adesso lo sapete, fra due settimane, in teoria il 19 usciranno, il 26 sarà la squadra completa. Primo, un paio di premesse, ovviamente questo video è più soggettivo delle top, perché vado a parlare realmente di giocatori che ho io, o che andrei a scegliere l'alternativa ai miei, quindi c'è molta più soggettività che nelle top, toccherò anche i terzini, che è comunque un ruolo di cui non ho fatto la top, e l'altra cosa, non ho fatto, o non farò meglio, dei video su degli squad builder, che voi magari qualcuno dite, ma perché ne fai solo una, non fai... Perché secondo me, parlavo anche oggi con la chat, e così erano abbastanza tutti d'accordo, è impossibile ormai fare un video con gli squad builder, no? Perché una volta c'erano, non lo so, tre centrocampisti forti, tre terzini, uscivano poche carte, adesso escono mille carte. La maggior parte di noi ha squadre non scambiabili, uno si è voluto Capdeviglia, l'altro Alaba, l'altro ha trovato la Sawa non scambiabile, l'altro ha trovato la Puteglias, l'altro ha trovato Garrincio, uno Giarzigno. Insomma, troppe carte, troppe variabili, troppe situazioni diverse, quindi secondo me è inutile fare un video dove dico, ok raga, mettiamo qua con 3 milioni questi, con 5 milioni quelli, con 10 milioni quegli altri, perché c'è veramente tanta scelta per tutti i gusti, per tutti gli stili di gioco. Quindi è per questo che ho scelto di fare una squadra perfetta, ovviamente il budget è un budget non altissimo, perché non è una squadra, la mia, da 20 milioni, 15, soprattutto se vai a togliere le sbissini in Bappé, neanche bassissimo. Diciamo che secondo me chi gioca da settembre come me ha del tempo da dedicarci e fa magari almeno un livello 4 in WL, è una squadra che si può avere. Se togli in Bappé secondo me è super, tranquillamente si può avere. Andiamo su FIFA, per una volta posso dire, perché useremo FIFA, questa è la mia squadra attuale, con 1 milione e 520 mila ancora da parte, che al momento stanno lì a stagnare. E partiamo dai portiere, raga, che in questo caso è questa bara danese di Smaichol, che purtroppo non è proprio un portiere che mi entusiasma, vi dico la verità, ma sui portiere, che non me ne parlo mai qua su YouTube, io penso una cosa e credo sia sempre stato così. Il portiere ne prendi uno, se ti ci trovi non lo cambi più, raga, perché qualcuno si trova con Smaichol, qualcuno con Van der Sar, qualcuno con Allison, io personalmente quest'anno l'unico in cui mi sono trovato è Allison e Van der Sar sugli altri account. Oltre a questo, secondo me, quando tu usi un portiere, per me in questo caso è Van der Sar, che ti piace, che ti sei trovato negli anni, eccetera, gli perdoni magari anche qualche cappella in più. Io a Van der Sar perdono se ogni tanto mi cappella, è una cosa psicologica. Questo Smaichol vedo quasi solo il negativo, qualche parata ogni tanto la fa, l'unica cosa è che non blocca mai la palla. In generale quest'anno i portieri non la bloccano molto, ma questo Smaichol secondo me lo fa proprio poco. Dimenticavo, parlerò ovviamente di questa squadra che di base, lo sapete se avete visto le mie tattiche, è per un 4-4-2. Ho 4-3-2-1, ma prevalentemente io uso 4-4-2, ogni tanto passo al 4-3, però ne parliamo poi dopo ruolo per ruolo. Quindi se potessi qua metterei Van der Sar, raga, anzi mettiamolo proprio e andrei a togliere questo Smaichol, però al momento non mi va comunque di buttare, buttare no però, spendere 3-4-500k per Van der Sar questo qua, o Van der Sar baby, chiamiamolo così. A destra sto utilizzando il Llorente, che tuttora per me è una roba incredibile, ovviamente un po' deficitario quando attacchi, lì dovresti mettere magari un Cancelo se vuoi uno più tecnico, per dire un Laudrup nuovo, però è gratis, fa il suolo la grandissima, difensivamente un trattore, quando sale la corsa ce l'ha, ed è un buon ibrido, secondo me, tra appunto un Cancelo e un Walker, perché io cosa cerco nei terzini quest'anno? Ogni un 4-4-2, ma in generale in ogni modulo, cerco terzini non troppo pesanti, che sappiano toccare la palla, non mi prendete per Adani, e che non siano come Walker, che ho provato, trovate la review qualche video fa, è fortissimo, però mettete Walker se volete uno proprio full difensivo, perché poi quando ce l'avete palla al piede, Walker è tremendo, piede debole è tremendo, il tiro è anche quello che è, anche se non è che questo Diorente ci tiro molto e tiri benissimo, però lì siamo proprio all'altro estremo. Allo stesso tempo, mettere un Cancelo di questi tempi, che a me piace molto, però può essere un po' un rischio se ti becchi magari contro gente con Bappé, questi giocatori qua sulla fascia, perché la velocità secondo me si inizia a sentire adesso, quindi a destra, io poi attacco pochissimo a destra, attacco più a sinistra, questo Diorente per ora fa tutto quello che deve fare, vedrò, perché a me piace molto questo Lodi, Lodi con cui ho fatto la bellezza di 239 partite, se Omutti, il pro a cui è segnato, andrà avanti e questo Lodi prenderà degli upgrade, valuterò di mettere Lodi a destra, barra a sinistra, ma credo a destra, che adesso poi arriviamo a Cap de Viglia, perché anche questo Lodi è un buon ibrido, fra un terzino molto difensivo e un terzino che attacca bene. Virgil e Blanc, ve l'ho detto nella top, per me i migliori difensori, questo Virgil non c'ho nulla da dirvi, se non che è praticamente uguale al base, se non in uscita nei passaggi è un pochino più agile con l'L2 a muoversi su se stesso, per il resto nulla da dirvi, perché vabbè, lo conoscete, un incubo, un incubo, se esce Totti c'è da spararsi, spero che costi 16 milioni, così non compra nessuno, lo usa solo chi lo trova, per me, se volete una difesa meta, questo Virgil non si può non avere. Ah, dimenticavo, l'ultima cosa su Llorente, qua se potessi, però qua andiamo già su squadre da 15 milioni e più, prenderei Cafu, quello speciale, però spendere 7, 800, 600 per un terzino non ha senso, a meno che appunto non abbiate uno squadrone, quindi io lascerei comunque Llorente lì, Cafu è veramente pazzesco, lo uso negli altri account. Blanc, secondo me inizia a perdere qualcosina, nulla di drammatico, lo sto usando con Ancora, tra l'altro se ve lo chiedete perché è uscito in chat un discorso con un ragazzo e abbiamo provato a mettere gli Ancora, non lo so, il suo lo sta facendo, quindi nel momento rimane con Ancora, non ho voglia di spendere soldi per un'altra ombra, inizia a perdere qualcosina, un pochettino, sicuramente i Totti lo cambierò finiti o durante i Totti, quindi verso fine gennaio, inizio febbraio, ha fatto il suo la grandissima 400k di SBC a inizio anno, 360, ve l'avevo detto, giocatore pazzesco, era pazzesco anche gli altri anni, e lo cambierò credo con, non so chi può uscire di Citotti, qualcuno dice appunto Virgil, qualcuno dice Ruben Dias, pare abbastanza sicuro, magari con un Ruben Dias, vai a sapere, magari tirano fuori qualche SBC flash, magari con Ramos nuovo che deve uscire stasera, vediamo, non lo so, però lo cambierò perché qualcosina secondo me inizia un po' a perdere ed è ora quasi di mandarlo in pensione, ma al momento terrei lui. A sinistra ho usato l'Odi, come avete visto per tanto tempo, la Bascia a me non fa impazzire, però è sicuramente top, anche qua al momento ho scelto questo Cap de Viglia, che è sicuramente più difensivo che altro per body type, per agilità, però col 4-5, prima mi ha fatto anche un bel go in Rivals, col tiro dalla distanza una bella trivela, il passaggino incisivo, è un buon ibrido, anche qua. La Bascia la dovete andare a scegliere, terzini come la Bascia, sicuramente se volete magari giocatori che attaccano ancora meglio, non super agili, palla al piede, vi girate, vi rigirate, o se sfruttate i cross, potrebbe esserci anche Avers, trovate la review di Avers qualche video indietro, a me Avers non ha fatto impazzire onestamente, poi io non sfrutto i cross, quindi al momento tengo lui, che poi è una velocità super fake, perché vi assicuro che corre molto, sarà per il razzetto, non lo so, ma corre, anche perché i lenti comunque, o i prolungata controllata, eccetera, hanno un po', no, quella falcata sul lungo sempre, anche se gli stili di corsa quest'anno non sono fondamentali. Però con lui l'ho provato solo oggi, in verità, non molto, però vi trovo bene, ve lo consiglio, perché si linka da solo, perché linka gli altri, quindi per una serie di cose, secondo me, questa è la migliore evoluzione da fare. Avers è interessante, ma appunto non fa molto per me. Passiamo agli esterni. Cosa cerco negli esterni di un 4-4-2? Cerco dei cavalli, fondamentalmente. Gente che sgaloppa, perché se in un 4-3-2-1, in tutti i moduli larghi, comunque serve avere esterni buoni, veloci, in un 4-4-2, in cui devono attaccarti quegli spazi tanto larghi, è ancora più importante. E perché hanno lo spazio per farlo? Essendo tanto larghi, spesso si ritrovano magari uno contro uno col terzino. E giocatori come questo Colomuani, come Rashford, che vi ho parlato nella top degli esterni, come Balotelli, secondo me sono perfetti. Qua, vi dico la verità, sarei disposto a perdere un po' di quest'ignoranza di un Colomuani, per esempio, per l'Ansen. Forse la miglior scelta lì rimane l'Ansen rossa, che adesso è anche scesa, perché comunque vi dà più qualità, più tiro a giro. Eh, c'ho l'Ansen base, aspettate che la levo. L'Ansen base non la metterei al posto di questo Colomuani. Ma la speciale sì, perché col tiro a giro, passaggi, anche lei ha le skill, la finalizzazione comunque nel complesso superiore, quindi sicuramente lei rimane la miglior scelta. Ma, se volete, giocatori ignoranti, a me piacciono molto, quelli col body type come Colomuani, secondo me quest'anno, fanno al caso vostro. A sinistra utilizzo un Bappé, qua di partenza è così per ibridare, ma come esterno utilizzo un Bappé, che vi dico la verità. Forte, eh? Bah. Tornarsi indietro, non lo so, credo lo sbloccherei ancora, perché comunque è un Bappé, ma vi dico che questo Rashford messo lì non sfigura per niente, anzi, a me sembra correre pure di più. Anche qua, solito discorso che ho fatto a destra, cerco giocatori forti ad attaccare la profondità, con un bel body type, forti con i doppi passi, perché io poi utilizzo tanto i doppi passi, quindi Rashford, come vi ho messo nella top, ma lo stesso Vinicius, Con Vinicius andate a perdere, come vi ho spiegato, un po' di body type, anche nel base, guadagnate un po' nello stretto, ma avete uno che comunque corre molto e vi dà quella profondità, vi dà quell'attacco che serve. Sto utilizzando appunto un Bappé, diciamo che andando avanti nel gioco sarebbe importante avere giocatori che passano anche bene la palla, non è il caso di questo un Bappé, come ogni anno, tolto il Toti e poche altre versioni, ma non è neanche troppo il caso di Rashford, che secondo me nel complesso la passa un po' meglio, lasciate perdere le stats, però è anche un 3 di piede debole. Le skill secondo me non sono fondamentali sulla fascia, la quinta stella skill, però può tornare utile, quindi comunque rimarrei sui giocatori come Rashford, Vinicius, Gvaraschelia, gente che abbia 5 stelle skill. Centro campo, allora il centro campo ruolo delicato nel 4-4-2, perché è un modulo comunque offensivo, lo sapete io gioco con uno dei due, quello di sinistra sbloccato, quindi senza resta dietro, quindi bisogna stare attenti, perché dal centro campo passa parecchio dell'equilibrio di questo 4-4-2. De Jong al momento non lo cambierei con nessuno qua, perché è pazzesco, si attacca a una roba senza senso, al solito De Jong, passaggi incredibili, la Trivela comunque non la fa male, è un 4-4, l'alto normale per me è super fake, perché mantiene un sacco la posizione, difende il quadruplo di quello che dicono queste stats, e non ha mai 77 di aggressività, questo De Jong, quindi lui non lo cambierei, ed è quello che a me fa la fase difensiva pura e vera. Certo, lì potresti andare a mettere un Machelet, un Viera, giocatori ancora più difensivi, a discapito di perdere della qualità, che comunque in un 4-4-2, essendo due centrocampisti molto alti, toccano spesso e tanto volentieri la palla, preferisco uno come lui, a discapito di perdere qualcosa in fase difensiva. Quella di fianco, quello di fianco, è fondamentale avere un giocatore che attacchi bene, perché come vi ho spiegato tante volte nel video delle tattiche, sennò ti ritrovi poi, io prima usavo Valverde, usavo Bellingham, che sono forti, molto, ma sono giocatori più che metterei qua, al posto di De Jong, non al posto di una Sawa, di una Puteglias, perché quando sali e ti dà il passaggio, ci dà il passaggio Valverde, al limite dell'area avversaria, se hai Valverde o sei la Sawa o la Puteglias, cambia il mondo, perché la Sawa è un R1 incredibile, perché è super agile, perché ha un'ottima finalizzazione, perché la Puteglias è tale quale, in più ha le skill, è il 5 di piede debole, perché la Bon Matisse, stesso discorso, è il 5 di debole, quindi non solo andrai ad attaccare medio e riuscire a finalizzare in più, guardate che stazza ha questa qua da centrocampista, ma allo stesso tempo perderai meno palloni, perché io tante volte mi ritrovavo con Valverde al limite e perdevo il pallone, perdere il pallone con un centrocampista nel 4-4-2 al limite dell'area avversaria, vuol dire essere con De Jong davanti alla difesa e 4 difensori, a pecora tradotto, quindi importantissimo, se vuoi giocare il 4-4-2 come lo gioco io, in questo modo un po' più offensivo, c'è bisogno qua, Sawa, Puteglias, Bon Matisse, in futuro, magari non lo so, un Bruno Fernandes 4-4, giocatori, con un body type buono nello stretto, con un buon R1, forti ad attaccare, e poi vabbè, in questo caso, la Sawa ragazzi, sta letteralmente da tutte le parti, cioè difende tantissimo, si attacca tantissimo, intercetta tantissimo, così come la Puteglias di meno, perché la Puteglias non intercetta, non difende quanto questa, barra una BOMMATI, avrete capito che le type qua, sono le mie preferite, qua probabilmente ci andrà, un giorno, perfetto, Bellingham Totti, che farà tutto, e tutto bene, barra un De Bruyne Totti, se uscirà che potrebbe essere, anche l'interessante, ma anche qua, lascerai la Sawa, perché, onestamente, mi sta piacendo tantissimo, arriviamo alle punte, per chiudere, 4-4-2, due punte, ma indipendentemente dal modulo, io quest'anno voglio gente, che finalizza davanti, gente che segna, e soprattutto, voglio uno col tiro a giro, io, non vorrei prendere il ginola, tripla minaccia, poi al più presto, perché l'ho riusato oggi, lo uso, è pazzesco, però separarmi da questo Son, faccio veramente fatica, perché fa gol, che fa solo lui a giro, e perché quando entro dentro l'area, oltre a avere due piedi, e tirar di potenza, io tiro quasi sempre a giro, quindi è una finalizzazione, quasi assicurata, dentro l'area, con questi giocatori qua, soprattutto, se prendi il verde, adesso vedremo, uscirà un nuovo Son, Fire e Ice, uscirà forse un nuovo Pot, se uscirà un nuovo Pot, me lo faccio sicuro, questo è un giocatore, che molti magari, iniziano a faticare a usare, ma per come gioco io, e per la tranquillità che mi dà, non riesco a separarmene, io da questo Son, vedremo, sicuramente, se andate a mettere un Ginola, qua davanti, fate dei gol, che con Son non fate, perché i doppi passi di Ginola, sono dieci volte meglio, di quelli di Son, perché ha le skill, e perché ha un body type, un po' buggato, diciamo così, allo stesso tempo, farete, meno gol, a giro, oggi ne ho fatto uno, tipo che con Ginola, non fai mai, perché ovviamente, non ha il tiro a giro, dipende sempre quello che, la domanda che dovete farvi è, quello che perdo, quello che guadagno, cosa preferisco, preferisco perdere i tiri a giro, e guadagnare quello che ha Ginola, o viceversa, preferisco, la rapidità di Mbappé da punta, o preferisco uno come Eusebio, perché Mbappé, per me la punta, ve l'ho spiegato nella top, non mi piace, esagero con lui, troppo, perché penso, possa andare via in velocità, ma poi di fatto, non sempre va via in velocità, perché il sinistro, è buono, ma è un quattropiede debole, quindi tutta la vita, io voglio punte, all'Eusebio, alla Son, alla Charton, alla Ginola, alla Cristiano Ronaldo, questi tipo di giocatori qua, forti con i doppi passi, almeno uno dei due, e questi due qua, vi dico che non sono bestiali, con i doppi passi, ma non sono male, e dei finalizzatori, questo Eusebio è perfetto, ve l'ho parlato a lungo, ve l'abbiamo parlato a lungo anche Olli, finalizzatore totale, R1 incredibile, nello stretto incredibile, velocità molto più di quello che mi aspettavo, e quindi questo, per me, ora come ora, è il miglior attacco, per me, che ovviamente si può fare, se vogliamo fare un attacco un po' più generico, diciamo, per gente che magari ha comunque un buon numero di crediti, si è verificato un problema con i server, grazie EA, andrei a sostituire questo Son, o con Neymar, che è pazzesco da punta, ma da punta, credo che comunque andrei a preferire Ginola, tripla minaccia, in questo modo avete, perdete i tiri a giro, ma avete un giocatore che con i doppi passi vola, passaggi ottimi, finalizzazione assolutamente al top, perché Ginola finalizza tantissimo, e vicino avete un super finalizzatore, questa, senza andare a scomodare R9, raga, non ne parlo, perché ovviamente capite che, non vado a mettere R9, a questo punto del gioco, che costa ancora più di 6 milioni, e forse la mia squadra, che farei perfetta, pretoti, non metto la ham davanti, perché non mi piace, troppo strana da usare, troppo particolare il controllo palla, poi magari mi ricrederò, però al momento non la sceglierei mai, e l'unico è Neymar, che mi farebbe riflettere, fatemi sapere che ne pensate, mi sono dilungato fin troppo, questa è la mia squadra perfetta, diciamo così, ci vediamo presto con nuove review, fatemi buoni, statemi buoni.